Se volete acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico, affidabile e velocissimo. Utilizzate il codice coupon che trovate in questa immagine per avere il 10% di sconto natalizio. Bella a tutti ragazzi, qua orgasmic e sono qui a fare questo brevissimo video che sarà un pack opening di due pacchetti. Dopo spiego meglio. Per ringraziarvi, visto che abbiamo raggiunto i 10.000 iscritti, che è un traguardo veramente pazzesco per me, che mai ovviamente avrei pensato di raggiungere perché davvero ho iniziato questo canale, giusto per divertirmi, per fare qualche video. Mai avrei pensato che sarebbe diventato così importante per me. Comunque sia, magari questo discorso lo faremo successivamente. Ho fatto questo video perché volevo chiedervi se voi, come speciale, magari dei 10.000 iscritti, volevate una sorta di video speciale in cui vi faccio vedere, che ne so, tipo il mio setup, la mia camera, dove gioco praticamente, dove edito e tutto il resto. Tutto ciò che è dedicato a YouTube. E quindi fatemi sapere nei commenti se la cosa vi garba, se l'idea vi piace. Comunque, andiamo subito a vedere un attimo qui, che ho due pacchetti, adesso vi faccio vedere subito quali. Vedete, ho due pacchetti mega che sono, aspettate mi sposo, che ho 30 oggetti, 26 oro, di cui 18 orari. La cosa è abbastanza bella, tattica. Direi subito di aprile ne ho solamente un paio, solo in questo account, purtroppo. Però era giusto così per parlarvi un po' di quello che vi ho detto prima, ovviamente. Partiamo subito con il primo pacchetto, sperando di essere fortunati, cosa che non siamo spesso, però vabbè. Il primo pacchetto, infatti, troviamo Dempsey, Lasagna, Dos Santos, Gente Strana, Narsight, Ben Arfa e tanti, ma tanti contratti inutili. Quindi pacchetto Bright White, pacchetto che non è andato come mi aspettavo, anzi no, come mi aspettavo è andato. Decisamente, tutti questi giocatori li possiamo scartare e andiamo ad aprire questo pacchetto qui, sperando, anzi lasciamo un bel mi piace, proprio potentissimo, un bel pollice in su e vediamo chi tro... mamma mia, 77, ma come si fa? De Sten, Benaglio, Di Natale, Paletta, Pjanic, Ruitel, De Bruyne, Barclay... mamma mia, ragazzi. E tante forme fisiche che comunque vanno sempre bene, un più 4.000 che, vabbè. Pensavo davvero di trovare qualcosa di più, mi aspettavo dei giocatori un po' più decenti, ma ovviamente io personalmente non posso trovare giocatori decenti. Non si sa perché la mia sfiga continua a spruzzo da tutti i pori sfiga. Vabbè, è così, noi ci accontentiamo. Comunque, vabbè, dai, apriamo un pacchetto promo, se ci sono, da 25k, ma sì, ne apriamo uno così ignorante, a caso. No, vi ringrazio, appunto, di 10.000 iscritti, è stato veramente, come ho detto prima, un traguardo pazzesco, Shakiri. Un traguardo pazzesco che mai mi sarei immaginato, è davvero una cosa... ah, Rodrigo ci sta. Una cosa davvero pazzesca. Poi è venuto proprio il giorno di Natale, ho raggiunto i 10.000 al giorno di Natale, la cosa mi è piaciuta ancora di più, ho vissuto un bellissimo Natale quest'anno, e per questo sono davvero contento con entrare, non so quanto vale, io lo metto in lista trasferimenti. Comunque, ragazzi, io direi di terminare qui questo breve video, era giusto per aggiornarvi un po' su quello che succederà in futuro, o in questo breve futuro, vi invito, come sempre, a lasciare un bel mi piace, vediamo se riusciamo ad arrivare a 400 mi piace, la cosa sarebbe davvero molto bella e tattica, e iscrivetevi al mio canale, pagine Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione, noi ci vediamo con il prossimo video, bella ragazzi!